Voi lo conoscete, Pratac? È un farmaco antidepressivo che ha fatto la felicità di generazioni di depressi. Lavora normalizzando gli equilibri dei naturali messaggeri chimici del cervello, modificando i livelli cerebrali di serotonina. Insomma, in parole povere, ci aiuta a sentirci meglio, a sorridere alla vita, che anche quando si rivela tragica ed incomprensibile, non deve mai farci dimenticare la sua infinita capacità incantatoria. Gli effetti collaborare più comuni nel Prozac sono pensieri anormali, sogni anormali, agitazione, tremore, ansia, bronchite, diarrea, vertigine, esclamazione improvvisa normale, prurito, mando in testo, tempo, e pronto. Ok, ok, ok. Ammettiamo pure che io l'abbia detto, no? Che tu sei carino. Magari già lo dico. Ok. Magari già lo dico. buongiorno amore buongiorno amore cronaca di sorreddo incaprettati Gigi D'Alessio incaprettati buongiorno amore 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.